Una cosa detta così a voce, in questa sede, che voi ci siano che non potete ritenere che non si permette, non si permette, non si permette, non si permette, non si permette di usare ma fatelo parlare, no, lei lo ha detto, nel dito la cortesia di non perderti queste parole, no, sta parlando con noi, sta parlando con noi, sta parlando con un finto, non si permette di usare il lato, non si permette di usare il lato, non si permette di usare il lato. Allora già si era deciso negli anni passati la chiusura della scuola che poi non si è realizzata la chiusura perché io ero tra quelli che dicevo diamo la possibilità, vediamo se si può riprendere, se aumenteranno il numero degli alunni nel 2012 c'era il massimo di studenti che la scuola poteva contenere non chieda quanti alunni ci sono in questa scuola altrimenti le chiedo quanti alunni ci sono alla scuola media di Napoli e quanti ce ne sono nel liceo suo Nella mia scuola sono 550 alunni, 197 della scuola elementare Quanto è grande e quanto deficit ha la sua scuola padre? Ha 15 insegnanti con la scuola elementare di Foscato, 15 insegnanti, noi siamo due sezioni E abbiamo pensato, se quegli numeri vi ritenito io, della mia scuola Quanto le reti della Virginia la Sanzio padre? Quanto le reti della Virginia la Sanzio? Ma non sono argomenti per il mio E quante sono le vostre reti? Comunque i bambini non sono numeri Bravo, bravo, bravo Scusi, Trascati è un posto culturale Ah, proprio dubbio, a me lo dice io sono nato a Trascati Quanto le reti della Virginia? Non c'è altro da dire